Ciao a tutti, in questo video vediamo una meditazione telepatica per attrarre amore nella tua vita. Come inviare un messaggio telepatico per attrarre amore, per attrarre la persona che desideri nella tua vita. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscrivendoti al canale attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. In più ti ricordo che se vuoi su questo canale sono attivi tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni e seminari del vivo e abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso vediamo un messaggio telepatico per attrarre la persona che desideri. Per fare questo è necessario accrescere la tua forza spirituale, accrescere la tua energia spirituale. E vediamo questa meditazione che ti permetterà di ottenere tutto questo. Allora ti chiedo di metterti in una posizione comoda, seduto seduta con la schiena retta, le braccia rilassate, le spalle rilassate e di chiudere dolcemente gli occhi. E mentre sei con gli occhi chiusi e ascolti il suono della mia voce, respira tranquillamente, porta l'attenzione sull'aria che entra e che esce. E per rilassate ancora di più ti chiedo di fare tre respiri profondi, ispirando l'aria dal naso, trattenendolo alcuni istanti, ispirandolo fuori fino in fondo con la bocca. E al termine di questi tre respiri profondi sarai completamente rilassato. Rilassato. E adesso, mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce, puoi iniziare a diffondere l'energia dell'amore in tutto l'universo. Questo consente una crescita spirituale universale. E questo consente anche una cosa molto importante, di attrarre amore nella tua vita. perché l'amore che viene dato lo riceverai per legge karmica e legge di attrazione. Quindi ti chiedo mentre continui a respirare tranquillamente di visualizzare il centro del tuo petto e al centro del tuo petto mentre sei con gli occhi chiusi puoi visualizzare un centro di energia che ruota vorticosamente di colore blu. E man mano che ruota da esso partono infiniti raggi di energia di colore blu che si diffondono in ogni direzione vanno a raggiungere ogni essere senziente. portando l'energia dell'amore tu diventi un potente centro energetico che diffonde l'energia dell'amore in ogni direzione. E mentre tutto questo succede ti rilassi ancora di più ti rilassi sempre di più e da ogni essere senziente questa energia che porta amore viene amplificata e ti torna indietro. Questo processo continua elevando costantemente il livello vibrazionale di tutto l'universo. Puoi immaginare l'universo come un universo di luce che vibra a frequenze sempre più elevate sempre più elevate. E' un universo di luce e tu diventi un potente generatore di energia di energia vibrazionale che invia amore invia energia di luce ed attira amore e lascia che l'amore possa entrare nella tua vita. Spesso non siamo in grado non siamo in grado di vivere l'amore perché non gli permettiamo di entrare nella nostra vita. permetti permetti all'energia dell'amore di entrare nella tua vita di renderla più elevata di rendere la tua vita significativa. potrai ripetere questa meditazione ogni volta che lo desideri contribuendo alla crescita spirituale dell'universo e attraendo l'energia dell'amore nella tua vita. e adesso che tutto questo è fatto fai tre profondi respiri trattenendo l'aria alcuni istanti e poi ispirandolo fuori fino in fondo dal naso e al termine di questi tre profondi respiri inizia a muovere le mani le braccia le gambe e per finire apri dolcemente gli occhi sentendoti bene in armonia con te stessa con te stesso e con tutto ciò che ti circonda. bene questa meditazione puoi ripetelo tutte le volte che vorrai ti predispone ad attrarre amore nella tua vita e se hai una persona specifica che vuoi attrarre puoi inviare un messaggio in questo momento a questa persona perché sei predisposta sei predisposto ad ottenere e sei sulle frequenze giuste per inviare un messaggio quindi ti chiedo se hai una persona specifica di chiudere ancora un secondo gli occhi un istante gli occhi di visualizzare questa persona nella tua mente di pronunciare il nome di questa persona poi mettere successivamente il verbo ama e pronunciare il tuo nome con l'intensità dell'energia che ti ha permesso questa meditazione ad esempio se io volessi mandarlo a Francesca chiudere gli occhi direi Francesca ama Massimo e lascerei andare l'intenzione bene riapri nuovamente gli occhi se avevi da fare questa cosa e lascio un commento qua sotto e mi raccomando iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video in più ti ricordo che sono attivo e attivo il servizio degli abbonamenti per cui se ti va di abbonarti al canale puoi farlo tranquillamente abbonandoti diciamo a uno dei tre livelli di abbonamento per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao